Musica Ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, oggi per il nostro approfondimento in studio dedicato alle lezioni comunali dell'8 e 9 giugno ho due ospiti, come vedete alle mie spalle do il benvenuto a Etienne Lucarelli e Barbara Brunori, ben arrivati Buonasera a chi ci ascolta Io direi di partire dal nome e da questo simbolo scelto proprio per questa campagna Esattamente, il progetto del civismo parte da lontano, parte appunto col sindaco Seri dieci anni fa quando in più liste ci eravamo costituiti ed oggi il riassunto è questa lista che porta tante esperienze diverse che appunto ci rappresentano anche nella sua solarità come vedete il nostro simbolo è un simbolo giallo, noi civiche Fano che ha delle freccette sulla parte alta e ognuna rappresenta proprio una forma di lavoro, di vita della città, dalla sanità al mondo della marineria, a quello che è l'imprenditoria per cui ognuno di noi diventa portavoce di un tema importantissimo che mette al centro sicuramente le persone e ne valorizzi i contenuti Sappiamo benissimo da dove è partita questo impegno politico Etienne, dove vuole arrivare? Ma guarda, dico due parole, continuità e innovazione Continuità perché queste due persone che ci sono oggi qua rappresentano un gruppo di persone che si è messo a disposizione per la città che vuol continuare a farlo Due persone che hanno sicuramente dedicato l'anima per ascoltare i cittadini e da qui parte il nostro impegno dall'ascolto e nel mettere in campo le cose che servono per la città Quanto dico che abbiamo bisogno di innovare, abbiamo bisogno di innovare una politica anche di centro-sinistra che a volte è anche un po' statica Noi gli vogliamo portare freschezza, la vogliamo portare avanti sappiamo che la città ha nuove e stringenti necessità siamo consapevoli delle necessità oggi e siamo anche consapevoli del lavoro che c'è da fare di come impostare la macchina amministrativa Il civismo ha l'ambizione di fare tutto questo è il motivo per il quale è importante che tutti voi guardiate questo simbolo votiate proprio con questa X qui sopra e scriviate i nomi Brunori, Lucarelli per dare continuità e innovazione a questo progetto La parola partecipazione ritorna come parola chiave nel vostro progetto politico L'ho detto prima perché parte dall'ascolto delle persone parte dall'essere consapevoli che o una città si accompagna verso il futuro oppure si rischia di fare delle politiche che vanno da soli senza essere consapevoli delle necessità della città quindi partecipazione, ascolto sono parole magiche dalle quali far partire tutto ad esempio nel nostro programma abbiamo molto a cuore il tema dei quartieri perché? Perché la nostra città è una città lunga, 17 chilometri tra l'altro anche con il tema bandiera blu abbiamo portato avanti in questi anni un grande lavoro perché vogliamo che si parli di 17 chilometri di bandiera blu e si parli di 17 chilometri di città ma è una città anche che si estende molto verso l'interno in una visione politica va guardata una città che guarda a Cucurano Carrara che sono i due apici verso l'interno ma poi bisogna concepire una città che collabori anche con tutto l'entroterra e con tutta la vallata del metauro del Cesano per cui quanto parliamo di quartieri non possiamo che pensare ai consigli di quartiere perché devono essere una lunga mano dell'amministrazione all'interno del quartiere per attivare una serie di servizi un esempio è stato il bilancio partecipato ha funzionato veramente tanto ha coinvolto cittadini ci ha resi consapevoli di quelle che sono le nuove necessità che guardano alla sicurezza, alla riqualificazione degli spazi e abbiamo fatto proprio quelle attività ecco pensate se riusciamo a impostare una politica di questo tipo partecipativa consapevoli di quello che ha bisogno la città quindi dobbiamo dare continuità a questo la cultura cittadina posso dire una cosa la città è ora ed è pronta a mettere le ali nel tema della cultura abbiamo sempre parlato che la città deve essere la città di Vitruvio sì, merita di essere la città di Vitruvio perché questo architetto ne ha dipinto la sua bellezza, le sue forme ora, come possiamo esserla? realizzandone un museo, l'abbiamo già finanziato abbiamo bisogno di continuare in questo processo abbiamo finanziato un ecomuseo dedicato alla marineria siamo in procinto di realizzarlo siamo in procinto di realizzare una fabbrica del carnevale ecco, realizzare questi luoghi della cultura che raccontano le nostre tradizioni e le nostre identità fare un patto con le associazioni per realizzare una serie di eventi che raccontino tutto questo in questi anni abbiamo fatto questo patto ma portare tutto questo con una promozione forte a livello nazionale ed internazionale è quello che la città deve continuare a fare è per questo che dobbiamo stare attenti oggi a pensare ad un cambiamento che può farci soltanto fare dei passi indietro e poi dopo aver parlato della cultura mi viene in mente di parlare di turismo perché ovviamente le due cose sono collegate in questi anni abbiamo fatto un piano strategico molto importante che ha cominciato a scrivere tutto questo che abbiamo bisogno della città di Vitruvi abbiamo bisogno di guardare all'aria aperta pensate al mese di maggio di quest'anno abbiamo fatto una serie di eventi tra l'altro portando il Giro d'Italia dando risalto alla Colle Marathon portando alla fine un nuovo evento che guarda al fitness molto giovane abbiamo fatto una serie di eventi proprio per raccontare fuori cosa vuol dire vivere la nostra città il nostro territorio all'aria aperta un territorio magnifico ecco dobbiamo continuare a fare questo a dipingere questi caratteri e a farlo con delle strategie in un tavolo che è stato aperto che deve essere continuato il tavolo economico della città di Fano anzi ringrazio tutte le associazioni di categoria per il lavoro fatto con la speranza che insomma si possa continuare a fare quindi il tavolo economico deve essere una realtà dobbiamo continuare ad allargare a destagionalizzare il turismo quindi dando forza ai mesi che non sono quelli della stagione balneare perché il balneare da noi funziona ma abbiamo bisogno di dar forza ai mesi primaverili autunali e anche invernali e così portare nuovi imprenditori nella nostra città perché dobbiamo dirlo oggi la nostra città ha bisogno di nuove strutture alberghiere stanno nascendo troppi bed and breakfast purtroppo perché la città funziona però il tema è che con degli alberghi con dei servizi di grande qualità sicuramente possiamo far crescere la nostra città e la nostra anima turistica non è solo questo economia è tanto alto il turismo non può trainare totalmente l'economia abbiamo bisogno di capire quali sono i settori trainanti può essere l'ingegneria può essere il navale può essere il manifatturiero però anche qui abbiamo bisogno di lavorare nella nostra zona industriale per far sì che se crediamo nell'ingegneria sicuramente una rete di infrastrutture come lo dovrà essere la fibra come lo dovranno essere le infrastrutture necessarie per questi mondi dobbiamo realizzarle ecco questa è la nostra visione e votando noi civiche si dà questa visione della città a continuità a questo progetto Barbara con te voglio affrontare il discorso di Fano Città Bella cosa intendi? Allora Fano Città Bella è stato il jingle di tutto questo nostro periodo amministrativo ma che si vuole continuare perché è Città Bella ogni giorno è una città che sicuramente è bella per quello che è un po' la sua essenza per come le persone la vivono è una città attrattiva e attraente sia per chi la vive ma anche per chi ci deve venire a visitare e spesso resta nella nostra città è una città che sia nel piano regolatore vediamo già come quello che abbiamo appena adottato si è evoluto il concetto proprio di città pubblica una città che ha ridotto naturalmente quello che era l'occupazione del suolo e quindi il consumo del suolo attraverso delle grandi costruzioni proprio per dare invece luogo e vita a nuovi spazi sociali spazi dove le persone possono star bene spazi di socialità che sono di verde pubblico se pensiamo ai quartieri pensiamo a tutti i nuovi spazi di community hub che un domani si dovranno andare a costituire per garantire appunto una miglior qualità di vita e soprattutto una conoscenza anche del quartiere e che può accrescere il tema poi della responsabilità ma nello stesso tempo anche della sicurezza perché sappiamo bene che più le aree sono presidiate miglior sicurezza c'è per quanto riguarda la città bella mi viene da dire che tanti interventi abbiamo fatto cioè vorremmo continuare a lavorare su tutti quei finanziamenti che abbiamo intercettato in questi anni 340 milioni di opere sono arrivate a Fano terza città delle Marche una città dignitosa che ha bisogno assolutamente di crescere che vorremmo continuare a far crescere non solo nella riqualificazione dello spazio pubblico della città ma anche nel miglioramento di alcuni spazi del quartiere sia del community hub ma che non può non guardare con più attenzione e una riorganizzazione anche proprio dello stesso settore che in questi ultimi dieci anni è stato sovraccaricato di un lavoro mai fatto perché capite bene i numeri corrispondono poi a un lavoro straordinario che è stato fatto per la città è evidente e si vede e che inevitabilmente ci porterà a riorganizzare per quanto riguarda la manutenzione ordinaria città bella significa una città che è in ordine ogni giorno in ordine si tratta di strade si tratta di marciapiedi si tratta di rotatorie si tratta di edifici pubblici le scuole, beni monumentali tutto quello che preserva la nostra storia ma preserva anche proprio la cura del nostro paesaggio e la salute del nostro paesaggio se pensiamo appunto a quello che è un piano di mobilità sostenibile che in questo caso abbiamo approfondito attraverso un PUMS che appunto è un lavoro che analizza tutto quello che è il valore e il carico del traffico per poi andare a redigere e riorganizzare la città in funzione delle sue abitudini e dei suoi bisogni è un piano che è pronto ad essere approvato è un piano che ci dà la direzione e l'indicazione anche della necessità urgente di mettere a disposizione dei parcheggi che non è solo la riqualificazione degli esistenti su cui abbiamo lavorato questi anni ma anche proprio di dotare la città di nuovi parcheggi per far sì che la città sia più libera dal traffico e possa appunto avere un'accessibilità in sicurezza anche attraverso delle piste ciclabili che in questi anni abbiamo aumentato perché ne abbiamo realizzate altri 22 km ma che sicuramente vanno connesse tra loro sia nella parte del centro storico ma che possono connettere inevitabilmente i quartieri alla città stessa questo è dignitoso non dimentichiamoci di quello che è l'abbattimento delle barriere architettoniche abbiamo approvato un PEBA il PEBA è appunto un piano che andrà a migliorare la città nella sua accessibilità e far sì che tutte le persone quindi dai bambini città dei bambini ma gli anziani ma le persone con grandi disabilità possono veramente attraversarla nel suo meglio e in sicurezza e raggiungerci perché siamo una città a 15 minuti una città davvero che può crescere tantissimo da questo punto di vista una città bella una città in salute direttamente proporzionale al territorio in salute per cui si abita quindi Etienne io direi che la salute è un punto molto importante e sensibile nel vostro programma fondamentale quando si parla di salute e quando si parla di inclusione c'è una frase molto bella che io mi ripeto sempre che è questa che dice l'inclusione non è un fatto di correttezza politica ma è la chiave della crescita di una comunità ed è questa la mentalità con la quale un amministratore si muove quando si parla di inclusione quindi inserire le persone più fragili all'interno del contesto cittadino guardando soprattutto i loro bisogni il progetto città di bambini e delle bambine va anche in questa direzione sono crescenti le necessità che guardano le salute alle persone fragili mi viene in mente sia ecco alle disabilità ma anche agli anziani che sempre più sono soli in casa tra l'altro nei nostri progetti abbiamo anche l'intenzione di riportare in auge ad esempio un infermiere che possa anche avere un occhio di riguardo per le persone che rimangono sole che magari escono dall'ospedale ma non hanno più i servizi dedicati a loro quindi rimangono solo a casa abbiamo diversi servizi che guardano l'assistenza domiciliare ma sono crescenti le necessità e dobbiamo anche inserire altri servizi mi viene in mente dell'RSA dobbiamo aumentare i posti di RSA e poi c'è il tema della sanità molto delicato questi giorni l'allarme lanciato dal professor Magalotti è un allarme veramente incredibile detto da un medico che sta operando all'interno del Santa Croce perché è una persona che si rende conto dall'interno di cosa sta accadendo e siccome che fino a ieri abbiamo raccontato che la sanità avrebbe avuto un grandissimo salto di qualità si parlava quando governava il centro-sinistra di chiusura dell'ospedale Santa Croce a me non è che facevano impazzire le politiche di quel tempo soprattutto perché non si è riusciti a comunicare alla cittadinanza un progetto vero di sanità dipingendo soltanto un ospedale unico verso Pesaro e non dando dignità al Santa Croce a Fano quindi sono state sbagliate le politiche anche in precedenza ma devo dire quindi da migliorare anche quelle ma devo dire le politiche fatte dal centro-destra in questi quattro anni sono assolutamente fallimentari quindi attenzione a non passare tra virgolette dalla padella alla brace va innovata una politica di centro-sinistra ma attenzione a non buttarci in una politica di centro-destra che ci ha raccontato che Santa Croce sarebbe stato aperto che avrebbe avuto una serie di servizi che sarebbero arrivati gli investimenti 200 milioni di investimenti a Pesaro e appena 20 milioni di investimento a Fano abbiamo buttato 30 milioni di investimento a Pergola che sono addirittura maggiori rispetto a quelli affrontati a Fano cioè nella sanità bisogna essere seri abbiamo bisogno di investimenti veri nel Santa Croce probabilmente abbiamo bisogno di innovare delle politiche nuove che guardano alla sanità per il Santa Croce forse anche in una collaborazione aperta con gli istituti universitari ad esempio con l'Università Politecnica delle Marche non lo so ci sono diversi ospedali universitari che innovano e fanno la differenza quindi forse bisogna mettersi a sedere appunto con i medici visto che il professor Magalotti si è messo a disposizione anche della politica e dipingere una sanità che funzioni per tutti perché di questo questo significa essere la chiave della crescita di una comunità a proposito di salute la nostra esperienza sicuramente importante all'interno dell'amministrazione ci ha insegnato e ci ha dotato anche di conoscenza per far sì che oggi possiamo capire che cos'è una città in salute una città in salute è decisamente una città che lavora anche da un punto di vista ecosostenibile su tutto quello che è il piano della città con la forestazione mi viene in mente tutto il piano di efficientamento energetico che abbiamo fatto sugli edifici pubblici ma anche su tutta l'illuminazione che adesso vedete sta cambiando in città a led quello va a consumare e decisamente a migliorare la qualità della vita delle persone che dovrà migliorare anche tutti quelli che sono spazi industriali nella qualità dell'aria quindi ci dovremo approfondire anche quell'analisi lì è una città dei bambini e mantenere un progetto importantissimo dove il bambino non è un progetto per bambini ma un progetto per tutti il bambino è semplicemente un paradigma da cui partire non è la città solo dove si gioca ma la città che viene riorganizzata a livello urbanistico vedete il quartiere di Sant'Orso che è stato un quartiere pilota e che ha dimostrato oggi che le persone possono attraversarlo e connettersi alla città in sicurezza è questo l'obiettivo è far crescere spazi di socialità all'aperto liberi e far crescere il benessere delle persone anche attraverso lo sport lo sport che è un motore incredibile di benessere ma anche di crescita personale perché oggi laddove dobbiamo migliorare nella manutenzione degli impianti stessi e ringraziare tantissimo tutte le società che oggi stanno facendo un lavoro egregio egregio e straordinario ma dovremo vedere all'interno della città la realizzazione naturalmente del palasport ma anche di impianti che saranno all'interno delle periferie che potranno essere rispondenti a sport non secondari ma primari che oggi naturalmente necessitano di spazi per cui ecco la nostra è una città in salute e sicura perché sicuramente quello che è percepito all'esterno è diverso è diverso e non può cambiare quello che invece effettivamente succede ci sono dei comportamenti di micro criminalità che vanno monitorati quindi ci deve essere un potenziamento dell'organico che insomma anche le forze di governo non legate necessariamente al comune ma possano e debbano metterci a disposizione perché come comune noi abbiamo potenziato tantissimo la polizia locale che sta facendo un lavoro egregio con oltre 200 telecamere che non bastano serve anche appunto una partecipazione di tutta la città nel monitoraggio di quelli che sono gli spazi pubblici perché più occupiamo gli spazi meno forme di delinquenza ci saranno detto questo noi siamo qui per rivolgere un ultimo appello alla città siamo con Etienne siamo insieme nella stessa lista civica e quindi raccomandiamo il vostro voto e naturalmente nella descrizione di quello che sarà l'urna per cercare di accompagnarci in questo viaggio un viaggio che è stato un viaggio intenso ma di vera esperienza e di vero cuore quindi per la città veramente noi ci mettiamo tutta la passione che abbiamo quindi basta mettere una X su questo simbolo come vedete qua una X e scrivere a fianco Brunori Lucarelli per confermare questo progetto politico e per vedere la presenza dei sottoscritti in un governo in innovazione della politica cittadina ed ora ci diamo in 5 io ringrazio Etienne Lucarelli e Barbara Brunori vi auguro un buon lavoro e ringrazio tutti i telespettatori che ci hanno seguito ringrazio la regia Riccardo Sorda Buon proseguimento con i programmi di Fano TV Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti